La danza trasmette sempre grandi emozioni, anche quando si tratta di danza astratta. Non so se vi è mai capitato di vedere un balletto di danza contemporanea, magari non c'è la storia, però nella mia testa non so perché io immagino e mi formulo da sola una storia. La danza può raccontarla una storia, anche se non c'è un testo. La tecnica, quindi la coreografia, viene messa a servizio del balletto stesso. Ecco perché si possono fare grandi balletti come Carmen e bisogna trovare un giusto connubio con la musica, la coreografia, ovviamente anche poi c'è tutto l'aspetto scenografico, però già con la coreografia e con la musica tutto può cambiare. Grazie